buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 30 settembre 2023 anche settembre se ne va un settembre diciamo così bello quasi estivo ne parleremo dopo per quanto riguarda la stagione estiva inoltrata per quanto riguarda poi le presenze turistiche ci sono articoli sui giornali che riguardano questo problema questa mattina ma noi come sempre procediamo secondo l'indirizzo ormai consolidato quello di sfogliare prima di tutto l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi san girolamo quarto secolo nacque a stridone in dalmazia ma visse la sua lunga vita in modo particolare a betlemme in una grotta vicino alla grotta dove nacque il salvatore ebbene san girolamo è noto e famoso e venerato anche per quanto riguarda la sua traduzione in latino del vecchio testamento e fece anche una nuova versione di quello nuovo si stabilì appunto a betlemme e li visse una vita stentata fatta di digiuni di lunghe preghiere la sua opera monumentale è ancora oggi una traduzione ufficiale della chiesa quindi è un pilastro fondamentale per quanto riguarda appunto tutto il vangelo e tutto il vecchio testamento questo è san girolamo e vediamo ora le previsioni del tempo è continua l'estate possiamo dire così tempo stabile solleggiato con pochi nubi di passaggio 20 deboli variabili le massime si attestano sui 25 gradi la minima sui 15 è leggermente diminuita i venti sulle coste da nord nord ovest nell'interno invece con una deviazione verso nord il mare è poco mosso quindi non c'è una grande differenza tra la giornata di ieri il problema è che insomma fa ancora caldo ma nonostante le presenze turistiche e beh tutte le attrezzature balneari sono state eliminate sono e sono state tolte dalle spiagge e allora apriamo oggi il corriere adriatico sulla pagina di fanum e vediamo l'articolo di apertura dedicata alla dedicato alla sanità la sanità è un tema ricorrente in questi giorni sulle pagine dei giornali ricordiamo che ieri ci sono stati gli articoli che riguardano il prossimo avvio dei lavori per l'ospedale di muraglia annunciati dall'assessore alla sanità regionale alla sanità filippo saltamartini e dall'assessore alle infrastrutture francesco baldelli ebbene ora abbiamo una presa di posizione di bene comune che ieri ha convocato una conferenza stampa si sono presentati carlo de marchi e luciano benini storici rappresentanti di questa associazione e di questa forza politica una forza politica che si è occupata da molto tempo per quanto riguarda la valorizzazione del santa croce ha seguito passo per passo tutte le vicende che riguardano il nostro ospedale ed ora veramente prende posizione cercando di sollecitare le forze politiche ad assumere una presa di posizione determinata per la valorizzazione del nosocomio fanese mobilitiamoci tutti per il santa croce questo è l'appello che hanno lanciato benini e de marchi è stato scelto come vittima sacrificale quindi cerchiamo di difenderlo a tutti i costi ebbene dopo le prese di posizione della giunta regionale secondo appunto al centro sinistra il santa croce verrebbe penalizzato bene comune chiede alla città di reagire il centro destra non risolve i guai di mezzolani e di ceriscioli cioè quello di avere pronosticato un ospedale unico sia per pesaro che per fano dimostrato veramente un fallimento alla gente non ne voleva sapere di questa integrazione che poi non si è realizzata e ne ha fatto soprattutto le spese l'ospedale santa croce perché è stato privato di servizi fondamentali e quindi occorre difendere il nosocomio ma soprattutto occorre difendere hanno detto i due rappresentanti di bene comune i servizi territoriali perché inutile fare una costruzione cominciando dal tetto se poi non ci sono le fondamenta e le fondamenta sono proprio i servizi territoriali quelli che offrano alla popolazione servizi elementari come prestazioni diagnostiche celeri e come soprattutto un'assistenza capillare degna del territorio però c'è una rassicurazione da parte della direttrice della azienda sanitaria territoriale nadia storti in merito alle dichiarazioni che l'altro giorno ha fatto il sindaco di fano massimo seri preoccupato per una eventuale sottrazione al santa croce della stroke unit la stroke unit è quella apparecchiatura che soccorre i malati di ictus i quali se riescono a raggiungere questo sistema entro pochi minuti dall'attacco possono avere molte molte speranze di risanamento di salvezza e c'è correva la voce la correva la voce sorta da un incontro con i sindacati che la stroke unit fosse trasferita al san salvatore di pesaro comunque nadia storti oggi nega questa eventualità e tranquillizza il sindaco massimo seri non ci sono atti ha detto di programmazione e per quanto riguarda questo spostamento e non si è mai paventata la possibilità di spostare la struttura in altra sede tanto meno presso la struttura del san salvatore di pesaro quindi una notizia almeno rassicurante il santa croce non verrà privato di questo servizio fondamentale ed ora passiamo ad un altro argomento un altro argomento che interessa un po tutti perché insomma la viabilità è un problema che coinvolge tutti i cittadini e tra la viabilità c'è anche quello delle multe perché insomma la velocità sensi vietati soste che non vanno bene sono un po all'ordine del giorno multe il 2023 sarà l'anno dei record e il punto interrogativo che il Corriere Adriatico pone su questo articolo in corsa per 5 milioni di euro ma il comune di Fano aveva raggiunto questa cifra la metà è stata già incassata nei primi sei mesi dell'anno fino a giugno e quindi il trend prosegue quindi i fanesi dobbiamo dire sono fatti più trasgressivi in merito alle norme del codice della strada ed ora incorrono appunto nei guai perché tutto il sistema di video sorveglianza di cui è stato fornito la città ormai riesce a raccogliere tutte le persone che sono in fallo quindi superare i limiti di velocità oppure stare in sosta vietata prima o poi si paga appunto la multa e poi non parliamo degli autovelox perché veramente lì c'è una strage 10 mila multe in poco tempo sono state elevate dagli autovelox sono stati sistemati in quel di cucurano e in quel di metauriglia e poi parliamo di un'iniziativa invece di carattere turistico a fondo pagina parliamo di Fano Gastronomica i ristoratori tornano a scuola di pesce Fano Gastronomica è quell'iniziativa che raccoglie i ristoratori i quali evidenziano nel loro menu dei piatti tradizionali a base di pesce che fanno parte della cucina fanese ebbene per conoscere ancora meglio i loro prodotti, i pesce ovviamente, le varietà, la qualità come il pesce si presenta, da dove viene eccetera tutte queste notizie vanno a scuola e l'insegnante è un insegnante di eccezione ovvero il professor Piccinetti è stato direttore del laboratorio di biologia Marina di Fano ora è in pensione, in pensione per quanto riguarda il suo incarico ma non certo per la sua adesione a questa materia che lo vede sempre in primo piano a studiare e a rilevare la sua conoscenza quando poi ci sono dei problemi Ed ora passiamo nell'entroterra A Urbania è morto l'ingegner Talozzi 24 ore dopo l'investimento è stato travolto da un camion mentre era in bicicletta lo sconforto di tre comunità l'ingegnere Talozzi era molto molto conosciuto Giampaolo Talozzi, 70 anni investito da un camion la sera del 28 settembre scorso verso le 19.30 mentre percorreva la Metaurense in un tratto stradale nel comune Durantino nel comune appunto di Urbania è stato trasportato e ricoverato all'ospedale regionale di Ancona quello di Torrette un'ambulanza lo aveva portato prima a Cagli poi ad attenderlo l'elisoccorso nel sito predisposto per gli atterraggi notturni purtroppo l'ingegnere è deceduto nella notte tra il 28 e il 29 di settembre quindi poche ore dopo l'incidente a causa dei gravi traumi riportati nell'urto con il grosso camion l'ingegnere Talozzi lascia tre figli tre figli, due maschi e una femmina la femmina si trova all'estero per motivi di studio quindi un grande cordoglio da parte della gente che lo ha conosciuto per quanto riguarda il suo operato e poi vediamo a Fossombrone invece che la biblioteca la biblioteca in corso Garibaldi la biblioteca Passionei sarà la nuova sede e darà vita al polo culturale di Fossombrone una nuova sede una nuova attività le biblioteche sono ormai diventate un centro di attrazione molto importante per gli aggiornamenti che hanno fatto e per le attività collaterali che svolgono non solo la messa a disposizione di libri ma anche incontri, mostre insomma un'attività che attira non solo i giovani ma anche le persone adulte tutti coloro che vogliono restare sulla cresta dell'onda per quanto riguarda l'informazione a Mondolfo a Mondolfo c'è un altro punto per quanto è di protesta per quanto riguarda le antenne ormai le antenne si diffondono un po' su tutto il territorio si parla delle antenne di telefonia mobile e dove sorgono ovviamente suscitano delle proteste perché si teme per la salute delle persone abbiamo visto a Pesaro abbiamo visto a Fano dove a Fenile dove a Carignano ci sono problemi per quanto riguarda le antenne ed ora ce n'è uno anche a Mondolfo è una delle antenne di Iliad Iliad ha cominciato i lavori è stato impossibile dire di no inutili ricorsi al Tar e poi anche magari al Consiglio di Stato perché come ha rilevato l'assessore all'ambiente del Comune di Fano Corro a Fattori l'antenna costituisce un'opera di urbanizzazione primaria e quindi è indispensabile voglio dire svolge l'interesse pubblico e quindi ovviamente i giudici a questo punto danno ragione agli operatori che le installano però insomma si tenta comunque di cercare di trovare siti idonei che siano almeno un po' lontani dalle abitazioni e andiamo a Senigallia a Senigallia si era ventilata la possibilità di concorrere per il concorso Capitale Nazionale della Cultura del 2026 però dopo aver meditato e considerato che Pesaro ha vinto il concorso per quanto riguarda il 2024 sarebbe stato insomma un po' difficile che un'altra città marchigiana potesse vincere questa contesa nel 2026 allora è stata ritirata la candidatura Capitale della Cultura dietro fronte Senigallia si è ritirata dalla corsa il vice sindaco Pizzi dice sarebbe stato molto difficile dopo Pesaro abbiamo voluto dare un segnale comunque sono progetti che non verranno cancellati ma vengono messi da parte perché possono restare utili anche in un futuro e vediamo anche qualche notizia di Pesaro l'apertura la vediamo dedicata al prolungamento di questa estate almeno per quanto riguarda la temperatura per quanto riguarda il bel tempo ma le immagini pubblicate oggi dal Corriere Adriatico sono significative queste sono le spiagge di Pesaro c'è ancora voglia di sole c'è ancora voglia di mare però insomma ombrelloni sedi a sdraio piscine strutture così non ci sono più e le spiagge sono deserte vediamo vediamo qui qualche rimanenza molto molto rara nelle spiagge pesaresi invece questa è la spiaggia di Fano la spiaggia di Fano la spiaggia del Lido dove ovviamente non c'è nulla e coloro che magari vengono ancora a passare le vacanze perché ci sono ancora dei turisti nel nostro territorio e che vengono attratti da un mare che è invitante da una spiaggia che è bella però di attrezzature balneari ormai non si parla più e allora sorge l'interrogativo è il caso di prolungare la stagione delle concessioni balneari ebbene dipende anche dal problema dal settore economico perché poi insomma lavorare in perdita per i bagnini non è certo il caso sono anche loro delle aziende che devono pensare un po' alla quadratura dei conti e insomma però il dibattito c'è se è il caso di prolungare incentivando poi la promozione per quanto riguarda la bassa stagione oppure arrendersi e chiusere un po' la stagione la stagione a Fano si è chiusa il 17 di settembre è già stato un progresso rispetto agli altri giorni grazie al bellissimo tempo che ha caratterizzato questo mese ed ora vediamo i guai che rischia un noto antiquario pesarese si tratta di Giancarlo Ciaroni noto antiquario che ha avuto anche delle onoreficenze ha avuto anche dei plausi per quanto riguarda l'attività di salvataggio dei beni culturali ebbene nel magazzino di questo antiquario è stato ritrovato un drago in pietra che apparterebbe alle guglie del Duomo di Milano un drago che è sparito diverso tempo fa negli anni 40 durante la guerra ha avuto delle vicende travagliate dei passaggi di proprietà e alla fine si è capito che questo drago questa opera d'arte apparteneva appunto al Duomo di Milano ed ora Ciaroni rischia il processo lui ovviamente dice che non sapeva la provenienza di questo reperto l'ha acquistato in buona fede e quindi cercherà appunto di fare valere le sue ragioni vediamo ancora la notizia che campeggia un po' o anche prima pagina sul resto del Carlino Teatro Rossini sul sipario sabato finalmente si riaprirà sabato 7 ottobre avremo l'inaugurazione ufficiale dopo due anni di chiusura per lavori una grande emozione quella per i pesaresi riavere il loro teatro il loro teatro che prende vita dopo due anni di chiusura due stagioni di prosa 2021-2022 2022-2023 passate al teatro sperimentale ebbene da 7 ottobre inizieranno le attività teatrali per una nove giorni non stop ricca di spettacoli che accompagnerà il pubblico fino all'inizio del GAD e il GAD è la rassegna del teatro amatoriale appunto della nostra regione un'iniziativa importante che si protrae pensate dagli anni 50 quindi è una serie di commedie che viene così rappresentata a Rossini da lungo lungo tempo ed ora passiamo al resto del Carlino l'apertura è dedicata alla sicurezza in modo particolare al quartiere Poderino dove sono emerse imprese di una baby gang di un gruppo di ragazzi che si è abbandonato a qualche atto di vandalismo e a qualche furtarello sicurezza la lega in emissione ma Poderino cresce la tensione c'è stata una riunione nei giorni scorsi convocata dall'onorevole Mirco Carloni il quale ha sollecitato il prefetto a prendere provvedimenti di sicurezza per tutelare i residenti di Poderino sarà chiesto un comitato di sicurezza e ordine pubblico questa è la prossima mossa Poderino si insomma ha avuto questi problemi ma forse non è il caso di esagerare perché Poderino è sempre un quartiere dove la vivibilità è accettabile bisogna cercare di così frenare queste intemperanze di questi ragazzi insomma a fine conti non è il Bronx della città il deputato Baldelli in commissariato servono più poliziotti ebbene è un leitmotiv che si ripete da lungo tempo non si può più rimandare l'integrazione di personale al commissariato di Fano ebbene il governo di centrodestra un governo che è propenso alla tutela della sicurezza però insomma il commissariato di Fano ha ancora un organico sottostimato e quindi non riesce almeno per quanto riguarda i controlli a soperire a tutte le esigenze di una città di 60.000 abitanti e dobbiamo dire nonostante l'abnegazione nonostante l'impegno che tutti gli agenti a partire dal vicequestore al più alla gente insomma che fa il servizio di sorveglianza a partire da questo impegno però insomma il compito è assai arduo per quanto riguarda l'organico in servizio e qui abbiamo un altro problema di vandalismo ebbene deturpare anche i manifesti da morto è veramente il culmine come quello di rubare i fiori al cimitero insulti e scarabocchi sfregiano anche i morti sono stati deturpati i manifesti che sono stati affissi nel muretto di via Arca d'Augusto che circonda facciamo così i giardini della memoteca Montanari indignazione in città diversi manifesti funibili sono stati imbrattati con scritte e disegni volgari non si capisce le ragioni che soddisfazione a sfregiare un manifesto e come sfregiare la memoria e quindi urtare la sensibilità di coloro che hanno affisso la notizia e poi abbiamo un interrogativo su un articolo di spalla del resto del Carlino un interrogativo che solleva Sergio Schiaroli che è stato segretario provinciale della Feder Consumatori ma il ponte della ferrovia dice Schiaroli regge a proposito dell'aumento del traffico pesante sul transito dei tir a Sassonia Sergio Schiaroli da attento protagonista della vita cittadina si chiede se esiste un piano di sicurezza della circolazione considerando che il ponte sulla ferrovia in Viale Battisti e quello che dalla Bella Napoli va giù verso l'anfiteatro Rastat ha così una resistenza e così consolidato da poter reggere il traffico pesante perché tutto quello che accade poi al porto è un attrattore di traffico lì ci passano ancora oggi i grandi tir ci passano i grandi yacht e poi insomma tutto il traffico che va verso la zona industriale del porto dove operano appunto i cantieri navali dove opera le ditte che trasformano il prodotto ittico e quindi bisogna pensare bene perché poi quando accadono le disgrazie ci si rammarica sempre dopo e il ponte ormai ha i suoi anni quindi è bene che si facciano i dovuti controlli e poi vediamo sul resto del Carlino l'articolo che riguarda i problemi sollevati da bene comune a Pesaro il maxi ospedale a Fano cosa resta si è interrogato bene comune che ha lanciato l'allarme nemmeno il sindaco sa cosa ci sarà dentro la nuova palazzina dell'emergenza urgenza e il sindaco ha a sua volta rivolto questo interrogativo alla regione perché insomma non si vuole che si costruisca una struttura vuota che poi deve essere riempita e non si sa di che cosa passiamo a Colli al Metauro ciclabile provvisoria sull'ex ferrovia la maggioranza boccia la proposta l'idea dell'opposizione di Colli al Metauro in attesa di sapere le sorti dell'infrastruttura la replica la legge vieta l'utilizzo del sedime per altre attività ma a Ferminiano l'ordine del giorno è passato e questa era l'ultima notizia che rileviamo oggi per quanto riguarda la rassegna stampa a questo punto chiudiamo i giornali io vi do l'appuntamento a lunedì prossimo saremo qui puntuali per riferirvi quello che dicono i giornali grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti Grazie a tutti.